Salve a tutti, sono Francesca Romano, co-founder and CEO di una start-up, una giovane start-up che ha creato Atuma. Quello che vogliamo presentare oggi, questo scenario, è quello delle app. Dagli smartphone al web siamo ormai sommersi di applicazioni e servizi che promettono di poter fare praticamente qualsiasi cosa, ma pensiamo un attimo a quante cose potremmo fare in più se tutte queste applicazioni potessero comunicare tra di loro. Attualmente questa comunicazione tra tutte le applicazioni è resa possibile dall'accesso all'API che ci viene fornito. Con queste premesse abbiamo creato Atuma, un'applicazione mobile web che rivoluziona l'interazione tra utente, smartphone e tutte le applicazioni, dando la possibilità di combinare insieme tutte le funzionalità mobile, quindi GPS, Bluetooth, Wi-Fi, mail con le applicazioni esterne. Creare una Atuma vuol dire fondamentalmente poter legare insieme una serie di condizioni che abbiamo definito degli if, con una serie di azioni relative che abbiamo definito dei do, per creare delle formule magiche da applicare al nostro smartphone. Vediamo degli esempi, se ricevo un'email da un mio collega con un allegato salva automaticamente l'allegato in una cartella specifica di Dropbox, oppure se piove anticipami la sveglia e manda automaticamente un sms al mio capo. Oppure se sono in vacanza o in qualunque altro posto e scatto una foto, automaticamente salva l'allegato, salva la foto su Facebook o inviala per email a un mio amico o mio collega. Se la mia amica arriva a Roma, automaticamente avvisami con un sms. Queste sono solo alcune delle funzionalità che possiamo generare con Atuma. Creare una Atuma è molto semplice, basta selezionare, scegliere il cluster con cui iniziare la propria Tuma che può essere tra funzionaria mobile, liste di dati personali, azioni e applicazioni esterne. Dopodiché andremo a ruotare in questa ghiera per scegliere gli elementi da abbinare alla nostra condizione, quindi al nostro if e la stessa operazione viene fatta all'interno del do, quindi dall'azione corrispondente. Andremo così a salvare la nostra Atuma, che potrà essere taggata in base al contesto di utilizzo, quindi ad esempio casa, lavoro, social network, per trovare più facilmente sempre l'Atuma giusto al momento giusto. L'Atuma può essere poi pubblicata su un wall della community per poter così scaricare e condividere utilizzandole anche l'Atuma di altri utenti. Abbiamo anche una piattaforma web desktop per monitorare, gestire e sincronizzare le nostre Atuma e anche tutta l'attività della community. L'applicazione gira su piattaforma Android, un sistema operativo open source quindi che ci dà la possibilità, la massima flessibilità nelle combinazioni possibili che si possono generare. C'è una forte componente di user experience che avvicina l'applicazione all'utente non solo nelle sue funzionalità che lo seguono durante tutti i suoi ritmi quotidiani, ma anche nell'approccio di interfaccia grafico risulta essere molto intuitiva e semplice. In più c'è la componente cloud che permette la sincronizzazione dell'Atuma su molti device, su tutti i nostri device. Il mercato in cui ci andiamo a inserire è quello delle applicazioni Android, un mercato che sta vivendo una crescita esponenziale negli ultimi anni. Vediamo infatti che dal 2009 al 2010 c'è stato un incremento dei download del 30% e si stima che nel 2015 genererà ricavi per 25 miliardi di dollari. Vediamo inoltre che le applicazioni con contenuti di personalizzazione si classificano sempre tra i primi posti, tra le più scaricate e l'ambito della phone automation e di quella che noi stessi abbiamo definito app curation, che è il segmento più specifico in cui ci andiamo ad inserire, è ancora molto giovane ma molto promettente, come vediamo infatti dalle performance dei nostri competitor e anche dagli investimenti che sono stati fatti in questo segmento. Il primo, quello che vediamo, è Smart Action, un'applicazione lanciata da meno di un mese da Motorola che gira su device Android. Smart Action permette la combinazione di funzionalità mobile all'interno del telefono ma esclude completamente la componente social e l'integrazione con delle app esterne. Mentre invece abbiamo This and That che è una web application, quindi è soltanto web, che riesce a combinare applicazioni web ma esclude totalmente invece tutta la parte mobile e quindi anche un touchpoint mobile. Atuma verrà rilasciata la private beta di Atuma a breve, le lasceremo poi sul market Android in versione gratuita con una piccola aggiunta di applicazioni light, di versioni light di Facebook e Twitter, quindi avremo funzionata mobile più Facebook e Twitter in versione light. Gradualmente poi andremo a rilasciare add-ons di applicazioni esterne a pagamento. Contiamo di fare da rilascio 500.000 download con una conversion rate di 420.000 add-ons a pagamento venduti a un prezzo medio di 1,50 euro. Atuma non è soltanto un'app, in realtà di fatto è un framework molto potente per tutta la gestione di applicazioni native e servizi web-based. Questo ci apre scenari di business verticali nell'ambito dell'internet e delle cose, quindi della home automation, la domotica, per la gestione di tutti i dispositivi esterni, quindi oltre al telefono cellulare. In più può essere usata come trigger, con la tag NFC come trigger in grado di creare degli automatismi di tipo puntuale, quindi con una già localizzazione molto molto precisa. E infine come un sistema intelligente in grado di rilevare contesti d'uso e quindi dare predizioni all'utente e informazioni sul proprio utilizzo. Ad esempio, andando ad attivare un contesto d'utilizzo quale la sostenibilità, l'applicazione potrà generare una scansione tra tutte le altre applicazioni quali il meteo, il traffico, l'agenda oppure l'applicazione per i trasporti pubblici e potrà dare dei suggerimenti all'utente in grado di dire, ad esempio, c'è molto traffico quindi non prendere la macchina, puoi fare una passeggiata perché è una bella giornata di sole, arriverà in tempo al tuo appuntamento che hai, ad esempio, fa due ore se prendi l'autobus numero 38 che passa proprio vicino al posto in cui ti trovi. Di cosa abbiamo bisogno? Di sviluppatori cazzutissimi e soprattutto che condividono con noi questa visione, il fatto di non rinunciare mai, di non never never give up. Quello che possiamo offrire è un ambiente di lavoro da start-up, quindi un lavoro denso, denso di sfide ma anche di grandi soddisfazioni. Abbiamo chiuso il primo round di finanziamento seed. Siamo basati in Ellabs, un incubatore romano. Anche questo denso di stimoli e di networking. Non ci sarà nessuno che vi dirà cosa e come dovrete fare, ma dovrà partire da voi, dovrete essere propositivi e proattivi. Vi offriremo chiaramente dei soldi e perché no anche delle quote in caso verifichiamo impegno e coinvolgimento nel progetto. Inoltre alla guida del team ci sono due Wonder Woman che non è poco in questo settore. Questo è il nostro team formato oltre da me da Gioia Pistola, responsabile marketing, Fabrizio Cialdea responsabile dello sviluppo, Andrea Merigioli responsabile creativo, Francesco Lorusso sviluppatore. Questo è il nostro network, siamo arrivati secondi alla Starca Plazio e abbiamo vinto il premio come giovani nomatori Under 35 del 2012 promosso da Technology Review. Questi sono i nostri contatti, veniteci a trovare allo stand. Grazie.